Ripulire i luoghi simbolo della città di propria iniziativa per migliorarli, renderli più fruibili e lanciare un messaggio di civiltà ai propri concittadini. Con queste motivazioni nel weekend i volontari dell'Associazione Marcellina Sempre si sono armati di pennelli, rulli e vernice e hanno lavorato alcune ore per coprire graffiti e scritte che ricoprivano le pareti del sottopassaggio della stazione ferroviaria. Il paese, l'ambiente e dei cittadini, non solo degli amministratori e quindi anche il singolo cittadino deve fare qualcosa come essere civile. La motivazione di rendere il paese, questo sottopasso, un po' più vivibile, più civile rispetto al degrado che c'è attualmente. Vogliamo dare un segno alla ferrovia che questo è possibile anche cancellare il degrado che si fa anche negli altri sottopassi. Io ringrazio tutti coloro che hanno fatto sì che con il loro impegno, con il loro pennello regalato, con la loro pittura, con la loro anche semplice bevuta che ci hanno portato mentre noi eravamo affaticati. Io ringrazio a nome di tutta l'Associazione, di tutte queste persone che anche con il semplice complimento, ragazzi fate bene, ci danno sempre uno signore a proseguire e ad andare avanti. Solo una delle iniziative svolte ed in programma da parte dell'Associazione che ramifica i suoi interessi dall'azione civica allo sport e all'ambiente e fino alla cultura. Il tutto in una concezione nuova nei modi di concepire l'esperienza associativa. Noi vogliamo essere un gruppo che ha preso un impegno scritto con l'amministrazione comunale dove abbiamo una convenzione che in cambio di una sede dove noi ci riuniamo prestiamo servizio alla cittadinanza. Mi auguro che l'amministrazione e le amministrazioni facciano sì che anche altre associazioni si propongano a fare altre cose. Questi infine gli obiettivi futuri di Marcellina Sempre. Marcellina Sempre vuole raggiungere gli obiettivi che sono quelli dei soci, chi è amante della musica, chi è amante del calcio, chi è amante dello sport in genere, chi è amante di lirica. Noi vorremmo piano piano soddisfare tutti i soci che con i propri progetti portiamo avanti tutte queste realtà.